Italia 1 No, ho perso la mia lente a contatto qua Ma che lente a contatto? Lei non le porta le lenti a contatto? Sì, ma loro non lo sanno Scusi, ma sta svirgiando Ma no Ma dai Davvero No, non è così Mihailovic Cisa Più o meno Non piegare alla fogliero che se si dà una calmata non dà fastidio a nessuno Mike, tira domenica Domenica alle 20 e 30 sui Italia 1 Che è? Ma cosa fa? Ma no Ma perché? Senti là sotto Giorno Giorno Fai un break Questo lavoro è un inferno Spezza con KitKat Ma com'è che è venuta questa idea? Così Ma c'è la tu una mattina ti svegli E dopo tre anni che stiamo assieme Te ne fai fuori con questa storia del matrimonio Hai visto un giro il vestolo? Ce l'hai sotto il naso? Ma scusa Ma non stiamo già bene così? Certo, era solo per... Ma allora io non vedo il problema E questo risotto i funghi? Sposami Vai vai Troppo tardi Da Knorr Una nuova raffinata gamma di risotti Con tutta la qualità del riso Carnaroli Knorr Rinnamorarsi in cucina Wow Wow Bellissimo Ma che bellissimo Buonissimo Io faccio sempre colazione con il mio Gran Turchese Cospasso il mondo Gran Turchese Morti il gusto leggero Onza sa tutto di te Panorama presenta Harry Potter Onza! Cavolo! Avanti Dammi la pietra! Benvenuti alla prima lezione di posta Harry Potter In VHS DVD Solo con panorama Vedi Quell'uomo che balla? Sì Quello È una banana Quella ragazza Quella è una cichita Ah Claro? Al cichita Passione mai finita Nuova Alfa Sport Wagon Istinto sportivo Nuovo GTDM Jet Da 175 cavalli A 150 euro al mese Se c'è una cosa proprio bella È sfidarci tutti in cucina La mamma Il papà Simone E pure io E non importa chi vince Tanto ci mangiamo sempre tutto Sutiletti Craft Dai forma alla tua fantasia No si è rotto Niente paura Incollalo con Patex Ripara Extreme Sicuro che resisterà? Certo Patex resiste ai colpi Alle torsioni All'acqua E alle condizioni estreme Patex Forza professionale Per il fai da te Nuovo Patex Magic Feeling Incredibile la leggerezza Perfetto il sostegno Grazie alla sua elasticità variabile Patex Magic Feeling Bellezza che si rivela Sleepo Tung Per te in regalo Con tutti i reggiseni della gamma Patex Magic Feeling Le buone scelte premiano sempre Gran cereale Gran buona abitudine Mangia sano e vive meglio Vogliamo avere più audience ragazzi Fate qualcosa in fretta Qualche idea? Ma abbiamo direttore? Sì però uno sveglio Uno che abbia intuito Un vero mastino insomma Ce l'ho Il nuovo direttore Coggio Acca stiamo Ettore Affretti vi E mo vi li metti in carreggiata Yamme coi nuovi telefonini No con questo ci fai dei mini film Puoi riceverli sul telefonino e sul computer E lo mandiamo al festival Digan Con Tim puoi girare mini film col tuo telefonino E mandarli a un computer o a un altro telefonino No mi gambe belle non l'ho dimenticata Taglia uno La dipendenza da Iene non è ancora stata provata Ogni tanto ci concediamo degli stravizi no? E così Ci droghiamo dai Potrebbe essere però a noi non risulta Eppure gli utenti giurano sull'effetto Puoi fare di qualsiasi cosa Il pesto psichedelico La rucola lisergica Preoccupano soprattutto quei comportamenti troppo disinvolti E le manie di grandezza Le cette non ce le hai proprio Le Iene Show Domenica le 21.30 Italia 1 Prendi un pasticcino Ricottine fresche e ballelata Il secondo piatto Leggero e gustoso Champions League Cominciano i verdetti La squadra dei sogni Il team dei grandi campioni Parte in missione Obiettivo Il passaggio agli ottavi di finale In diretta da Belgrado Partizan Real Madrid Martedì 20.40 Italia 1 Gli ingredienti più naturali La bontà più leggera In due nuovi snack biscotto 10.30 ai cereali croccanti 10.30 al musli Pensati per il tuo benessere Da Mulino Bianco Mangia sano E vivi meglio Arriva McCain Patate così Non le avete mai viste Gustale anche al forno Con Kid Smile E Forno Chips Da McCain Di Salonno Il gusto della seduzione 5.30 al musli 3.30 al musli Duplo Più buono O più leggero Fino a oggi Pensavi che il mondo Della rasatura Fosse questo Con il gel da barba Gillette Series Cambia pelle Alla tua rasatura Ne basta poco Il gel da barba Gillette Sirius Con un leggero massaggio viene assorbito dalla pelle Ammorbidendo la barba Diversamente dalla nostra schiuma E il tuo rasoio scorre più facilmente Prova una rasatura più morbida e confortevole Con il gel da barba Gillette Sirius Forse sarà Luca Carboni Live Il nuovo album 30 grandi successi Doppio CD a soli 15,90 euro Anche in tutte le edicole Io sono Manuela Leggeri E lei è la mia nipotina Lei dice che presto insieme vinceremo tutto Intanto insieme facciamo la stessa merenda Kinder Fetta al Latte È il sandwich al latte Per chi vuole nutrirsi bene E per chi vuole restare leggero Kinder Fetta al Latte Il sandwich al latte Le rughe si installano quando la pelle non riesce più a decontrarsi Innovazione dermatologica Miochile di Bichy Il primo trattamento all'adenoxina Che provoca la decontrazione della pelle Per correggere le rughe Clinicamente dimostrato Le rughe si riducono in 21 giorni Miochine Il nuovo trattamento antirughe dermodecontraente Visci La salute passa anche dalla pelle Latte Cioccolato E quel gusto unico che ti scioglie il cuore Kinder Maxi Tenero dentro È loco Loco per il limone Loco per la passione Loco per l'Avana È il solo con l'Avana Club L'Avana Loco Totos Locos For L'Avana Loco Finci con i sofficini Uno dei 20.000 carletti in circolazione Oggi c'è un modo molto piacevole di svegliarsi Le nuove nastrine Ancora più soffici Ancora più fragranti Nastrine mulino bianco Mangia sano E vivi meglio Nuova energia Per l'Inter in Champions League Non è più tempo di parole Ma di gol Per il quarto turno di Champions League Inter Locomotive Mosca Mercoledì 20.40 Italia 1 Un appuntamento Ford PlayStation 2 Italia 1 So cosa hai fatto l'estate scorsa Pensava che quella storia fosse finita Ma colui che sa È tornato Jennifer Love You Incubo finale Lunedì alle 21 Prima visione Italia 1 Il calore è vita Fornire calore è la vita di Butangas Perché Butangas è come il sole Ma i suoi raggi sono blu Butangas Il sole blu New Renault Apre di nuove strade L'auto più sicura Nella categoria Monovolume compatte Amaro Montenegro Sapore vero Fine dei capelli secchi Aridi e ribelli Nuovo shampoo Elvive Liss Intense De L'Oreal Al Nutrileum Associazione di un microolio Ed un agente lisciante Nutra e distende il capello Per un risultato Quattro volte più liscio Ma i miei capelli Sono stati così morbidi E disciplinate Nuova linea Elvive Liss Intense De L'Oreal Perché voi valete Vivace dei Golden Lady Il Beauty Collant Molto più vivace Un massaggio di bellezza Per le tue gambe Golden Lady Grande amica Tortiglioni Barilla Una forma d'amore Unto Smacchiato E disinfettato Con omino bianco Oggi si può Sudore Smacchiato E disinfettato Con omino bianco Oggi si può Omino bianco Additivo disinfettante È un presidio medico chirurgico È arrivato Il piacere rotondo Nuovo Danissimo Lo yogurt Con un goccio di panna Danissimo L'unico così cremoso Così rotondo Danissimo di Danone Il nuovo piacere rotondo C'è un mondo che È speciale Sai perché I bambini qui Potranno giocare Con la fantasia Ciao Mucca Trovare tanti amici Scoprire mille sorprese Il mondo di Little People È un mondo per sognare Il mondo di Little People Da Fisher-Price Se non hai gli strumenti giusti Non hai certezze Con RAS Trovi gli strumenti ideali Per realizzare i tuoi progetti RAS Costruttori di certezze Non bevevo Jäger Meister Perché Perché no Jäger Meister Perché no Buongiorno amore Buongiorno Ecco il test di gravidanza Ma l'ho appena fatto E allora Guarda che per avere un bambino Non bisogna avere fretta Scusa amore Ma tu non sei impaziente Ma sì certo Magari sono quattro Ci serve spazio Che cosa Ma tu sei tutto matto Ci vorrà una nuova auto Devi proprio avere figli Per avere una Turan Nuova Volkswagen Turan Boss Intense La nuova fragranza femminile Di Ugo Boss Italia 1 Per molti è un fenomeno da esibire Eh voglio quando trash c'è qua Per alcuni è solo un modo un po' volgare Per stupire Voglio diventare zoccolina Entriamo nel variegato mondo del trash Vorrei diventare zoccolina Con Lucignolo Lo speciale di studio aperto Questa sera 23 e 20 Italia 1 Italia 1 A Massimo Per i nostri sette anni insieme Per quella parte di te che mi manca E che non potrò mai avere Per tutte le volte che mi hai detto non posso Ma anche per quelle in cui mi hai detto ritornerò Sempre in attesa Posso chiamare la mia pazienza Amore La tua fata è ignorante Perché siamo due destini che si riescono Bacardi Room Accende la notte Rossella Brescia ha scelto il calendario di Max Per la sua prima volta Max più calendario a soli 6 euro E il dividi con il backstage e il CD-ROM A soli 7,90 euro in più Buongiorno Buongiorno Posso aiutarvi? È un antipasto del contadino per tutti Non serve andare dal contadino È Fiorucci Che fa i grandi salumi italiani In questo agriturismo si mangia veramente bene Beh, veramente L'agriturismo è più avanti Fiorucci Gusto nostrano Oggi gliel'ho detto Ancora qualche concerto E appendiamo la chitarra al chiamo Gli ho anche raccontato della cascina Dice che La soluzione Sono i nostri diritti d'autore E allora ha preparato un piano di investimento A me sembra perfetto È sempre stato un grande produttore No Ma quale produttore? È stata la nostra banca Unicredit Banca Unicredit Banca Al servizio delle tue idee Gara di torte? E torta sia Fare una torta con cameo È semplice e divertente Buona Questa è la nostra Ma è questa la nostra? È questa Sono buona tutte e due Torte cameo Piacere fatto in casa Cinque Quattro Tre Due Uno Più energia alla tua pelle Con la vitamina C L'estratto di albicocca E i pigmenti luce riflettenti Nuovo Pure Energy Più luminosità al tuo viso Da Nivea Visage Per prevenire la formazione della placca Dovresti lavarti i denti ad ogni occasione Quando non puoi lavarti i denti C'è Deigan Microtech Con microparticelle pulenti Ad azione prolungata e costante Che riduce oltre il 90% di placca in più Rispetto ad un chumiga normale Per una sensazione di pulizia profonda E la sicurezza di un alito sempre fresco Deigan Microtech Denti più puliti Controllo alito fresco Ora dopo ora Il massimo del controllo Il massimo del design Il massimo del comfort Il massimo dell'affidabilità Nasce la monovolume di nuova generazione Tutto il resto vi sembrerà poco serio È arrivata Ford Focus C-Max Preparatevi al massimo 1.6 TDCi 110 CV A 19.750 euro Tell me the first thing That comes into your head Chocolate Bacardi Breezer There's free spirit in everyone Esaio potrà essere salvato Stanotte Il futuro di entrambi i mondi Sarà nelle tue mani Se fallirai Sarà nelle sue Al mondo tutto quello che ha un inizio Ha anche una fine Bayliss Fate scegliere i vostri sensi Questo tesoro farà felice il dolce Signoria dalla lontana Cina Vi si reca la cosa più preziosa Che là si possa trovare Oro Oro È oro Orzo Purissimo Non è una maraviglia? Niente ora Niente Esploratore il mio avo E che birra La birra Moretti Finisci la storia Birra Moretti Un piacere da raccontare Liberatelo Questa birra è squisita Italia Una Mi sfogliano Mi stracciano Imprecano Scuotono la testa Nel profumo di caffè Nel vento denso di stazione Smuovo parole Sono il mondo da leggere Da usare Da gettare Ma a volte Divento Rifugio Invisibili Nuova edizione Venerdì 7 novembre 2325 Italia 1